va ora in onda il culto evangelico valdese a cura di vito gardiol pastore alla chiesa di prali pace a voi da dio padre figlio e spirito santo che rinnova di giorno in giorno le sue promesse e fa scendere la sua benedizione su ciascuna e ciascuna di voi amen dal salmo 119 leggiamo per sempre signore la tua parola è stabile nei cieli la tua fedeltà dura per ogni generazione tu hai fondato la terra ed essa sussiste tutto sussiste anche oggi secondo le tue leggi perché ogni cosa è il tuo servizio se la tua legge non fosse stata la mia gioia sarei già perito nella mia afflizione mai dimenticherò i tuoi precetti perché per mezzo di essi tu mi dai la vita la tua parola è una lampada al mio piede e una luce sul mio sentiero ci raccogliamo in preghiera signore dio nostro ti ringraziamo perché in questo momento possiamo stare insieme per invocarti e per ascoltare la tua parola di vita risvegliaci dacci la tua luce si tu il nostro maestro e il nostro consolatore parla tu con ciascuna e ciascuna di noi in modo tale che ognuna ognuna oda e riconosca ciò che tu gli vuoi dire concedi a noi a coloro che in altri ruoghi si riuniscono per ascoltare la tua parola e per lodarti concedi conoscenza e speranza una chiara testimonianza e un cuore lieto nel nome di gesù cristo nostro signore amén 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 Il braccio tuo potente, gloria al Signore. Sì, nostra vita vicina e sicura, Nel tuo sentiero, nostro compastore, Che di noi tutti sempre a vestigura, Gloria al Signore. Nel tuo servizio fa che camminiamo, Sì, al tuo volere sotto messo il cuore, Nel tuo timore fa che noi viviamo, Gloria al Signore. Nel insanabile nostra devolenza, La tua potenza compilù, Signore, In che il tuo regno venga con pienezza, Gloria al Signore. Dall'Evangelo di Luca, leggiamo al capitolo 6, Dai versetti 26 a 37. Guai a voi quando tutti gli uomini diranno bene di voi, Perché i padri loro facevano lo stesso con i falsi profeti. Ma a voi che ascoltate, io dico, Amate i vostri nemici, Fate del bene a quelli che vi odiano, Benedite quelli che vi maledicono, Pregate per quelli che vi oltraggiano. A chi ti percuote su una guancia, Porgigli anche l'altra, E a chi ti toglie il mantello, Non impedire di prenderti anche la tunica. Da a chiunque ti chiede, E a chi ti toglie il tuo, Non glielo ridomandare. E come volete che gli uomini facciano a voi, Fate voi pure a loro. Se amate quelli che vi amano, Quale grazia ve ne viene? Anche i peccatori amano quelli che li amano. E se fate del bene a quelli che vi fanno del bene, Quale grazia ve ne viene? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a quelli dai quali sperate di ricevere, Quale grazia ne avete? Anche i peccatori prestano i peccatori Per riceverne altrettanto. Ma amate i vostri nemici, Fate del bene, Prestate senza sperarne nulla, E il vostro premio sarà grande, E sarete figli dell'Altissimo. Poiché Egli è buono verso gli ingrati e i malvagi. Seate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro. Non giudicate, non sarete giudicati. Non condannate, non sarete condannati. Perdonate e vi sarà perdonato. Cari fratelli e care sorelle in ascolto, In forma negativa questo detto appartiene Alla saggezza universale. Un atteniese già nel quinto secolo avanti Cristo, Isocrati, lo esprimeva così. Qualsiasi cosa vi dispiaccia di subire dagli altri, Non fatela ad alcuno. Il non fare agli altri ciò che non si vuole per sé È dunque una conquista del pensiero e della saggezza umana. Una conquista fondata sull'esperienza, Sulla constatazione che la vita è una ruota E che prima o poi ci accade di subire quello che facciamo agli altri. Già questo non è poco, Specie se confrontato alla logica attuale della deterrenza Che cerca di distogliarti dai problemi veri E che cambia il nostro slogan in una formulazione Che può suonare pressapoco così Preparati a fare agli altri ciò che dispiace Prima che essi lo facciano a te. Sappiamo molte delle strategie commerciali, Ma anche militari, Sono informate da questa massima. Questa saggezza universale dunque È già molto con i tempi che corrono. Credo che potremmo quasi accontentarci di questo detto Anche nella sua versione negativa. Se fossimo riusciti per esempio A fare veramente tesoro delle esperienze passate Neppure troppo distanti da noi Dovremmo ricordare le cose che sono dispiaciute Ai nostri emigranti Che con la valigia legata, con lo spago E i figli in braccio Quando potevano portarli con sé Andavano in gran numero all'estero Alla ricerca di un lavoro Basterebbe ricordare Le ingiustizie, gli sfruttamenti Le piccole e le grandi discriminazioni Con le quali erano talvolta In poche ore rispedite al mittente O persino i silenzi Di chi con un sguardo indiscreto Scrutava il loro fare dimesso E talvolta umiliato Tutto questo dovrebbe bastare Per fare in modo che le cose non si ripetano Non c'è bisogno di una fede Né dell'Evangelo di Cristo Dovrebbe essere sufficiente la memoria Questa memoria E in una certa misura Questa saggezza non ci è estranea Se qualche passo è stato compiuto E anche, bisogna riconoscerlo E anche perché uomini e donne Di buonsenso non mancano Al nostro popolo E neppure al nostro Parlamento Fino a un certo punto però Fino a che questo nuovo Forzato esodo biblico Dai paesi più poveri Verso l'Italia Non rappresenta una minaccia Per la nostra economia E per la nostra occupazione A quel punto le cose cambiano I luoghi comuni si insinuano Questi orizzonti mentali Della nostra gente E al fastidio Segue presto un più aperto rifiuto A quel punto torniamo a dimenticare La lezione della storia Si dà il caso però Che il detto che troviamo Nel Vangelo di Luca E anche in Matteo Sia in forma positiva E come volete Che la gente faccia a voi Fate voi pure a loro Sembra nulla Ma Gesù nel rivolgere in positivo Questo detto Lo ha radicalizzato Facendone una regola d'ora Per il discepolo e per la Chiesa Gesù in pratica dice Che non è affatto sufficiente Un'etica non aggressiva O se volete non violenta Per il cristiano Perché il discepolo Si caratterizza Per quello che fa Non per quello che non fa Non solo Ma Gesù assumendo Come dato della realtà L'egoismo umano Lo usa Per radicalizzare La domanda di servizio Verso gli altri Quanto più si vuole per sé Tanto più Si è in obbligo di fare Per gli altri In questo È tratteggiato Quel qualcosa di più Che deve caratterizzare Il ruolo del credente E delle nostre comunità Nessuno di noi Ha bisogno solo Di una casa O di un lavoro E quindi Nessuno di noi Ha autorizzato A ritenere La sua coscienza A posto Se questo Che per altri versi È già molto È ottenuto Mediante le leggi Siamo chiamati Come chiese A diventare Comunità di accoglienza Dove si possa avere Ciò che una legge Per quanto Democratica E civile Non può dare E questo è il compito Che ci sta davanti E nessun ufficio O dipartimento specializzato Può assolverlo Per noi Solo La comunità Locale Può rispondere A questo imperativo E se è vero Come è vero Che il verbo volere In questo versetto Può essere tradotto Anche con Desiderare Cioè Fate agli altri Quello che desiderate Per voi Noi La chiesa cristiana Non siamo chiamati A svolgere un servizio Nel semplice ambito Dei bisogni Più o meno Urgenti Ma addirittura Nell'ambito Dei desideri Un servizio Verso Quell'anedito Di pienezza Di vita E di ricerca Di senso Che ci rende Inquieti Che rende Le nostre Notti agitate Che crea In noi Angoscia Talvolta Ma anche Impazienza E attesa Di un domani Migliore Insomma Se i bisogni Sono rivolti A questa terra Non possono essere Sottovalutati I desideri Sono rivolti Al regno Di Dio Che è E deve Rimanere L'anima Del servizio Cristiano Questo slogan Dunque Non è una regola D'oro Perché propone A noi Ciò che è stato Gesù Nella sua persona Ma lega Lui A noi Indica A noi Discepoli E discepole La via Che ha percorso Nostro Signore È in questo Legame Con la persona Gesù Che va cercata L'originalità Del detto Evangelico E poiché Questa via Passa per la croce Questo detto Non promette nulla Né gloria Né successo E neppure La crescita Delle nostre chiese Solo porta Con sé L'implicita promessa Di essere suoi Seguaci Fare agli altri Ciò che si desidera Per sé Significa Aver preso coscienza Che fra me E l'altro L'altra Non c'è Differenza qualitativa E che nella fragilità Del nostro essere umani Siamo del tutto simili Facciamo dunque Cari fratelli E care sorelle Questo salto Dalla saggezza All'Evangelo Dal bisogno Al desiderio Dalla lotta Per la sopravvivenza All'utopia Di un mondo nuovo E il Signore Ci conceda Di vivere Nell'incontro Con i diversi Un'altra tappa Della nostra E della loro Liberazione Amen Il canto di quest'ora Con fede e nuova Con piedi e tu Amor Con i diversi Con i diversi Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ci raccogliamo in preghiera. Signore Dio nostro, agisci in noi e trasformaci. Le nostre mani rimangono tante volte prive di forza se tu non ci sostieni. Le nostre azioni, i nostri progetti, i nostri intenti si perdono nel vuoto senza la tua presenza. Allora ti preghiamo usa le nostre mani, le nostre gambe, le nostre bocche per essere accanto a quanti soffrono la solitudine, il dolore del lutto, l'angoscia dell'ingiustizia. Usaci per portare conforto ai malati e alle persone sole, a coloro che non sanno più quale strada intraprendere o quali scelte fare. Usaci per ridare coraggio agli sconfitti e speranza ai delusi, per portare il tuo amore a quanti non sanno più trovare la via della riconciliazione. Usaci, Signore nostro, perché possiamo essere gli uni per gli altri messaggeri del tuo amore. Te lo chiediamo nel nome di Gesù, che ci ha insegnato a pregarti dicendo Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, il tuo regno venga, la tua volontà sia fatta come nei cieli e anche in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non esporci alla tentazione, ma liberaci dal male. Tu è il regno, la potenza e la gloria, nei secoli dei secoli. Amen. E riceviamo la benedizione del Signore. Il Dio della pace vi renda perfetti in ogni bene, affinché facciate la sua volontà e operi in voi ciò che è gradito davanti a Lui, per mezzo di Gesù Cristo. A Lui sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Avete ascoltato il culto evangelico valdese a cura del pastore Vito Gardiol. Grazie. Grazie. Grazie.